Puoi fissare un obiettivo solo in base al tuo attuale livello di comprensione e di conoscenza, non è vero? Pensi di aver raggiunto un punto in cui conosci tutto nell'universo? Quindi, se fissi un obiettivo, che tipo di obiettivo fisserai? Un obiettivo molto misero. Io direi ai giovani, non fissate un obiettivo. Se hai una devozione assoluta verso ciò che stai facendo adesso, a seconda dei tempi e delle opportunità, andremo il più lontano possibile. Ma se sei sempre preoccupato per il traguardo, se raggiungi l'obiettivo, sarai deluso. Se non lo raggiungi, sarai distrutto. Le persone più di successo sul pianeta, quanti di loro, stanno gioiosamente guidando la loro BMW? Solo coloro che sono assolutamente devoti a ciò che stanno facendo hanno fatto cose significative su questo pianeta. Ed è questo che devi fare. Sadhguru, tutti noi qui in questa sala abbiamo degli obiettivi. Ed essendo per la maggior parte studenti, i nostri obiettivi sono al livello massimo. Vorremmo sapere, siamo molto desiderosi di sapere, quando avevi la nostra età, che cosa volevi diventare? Qual era il tuo obiettivo? Oh, comincia come un'interrogazione. Beh, francamente non avevo obiettivi di nessun tipo. al punto che mio padre faceva cosa farà questo ragazzo? Non è interessato a niente. Si sbagliava completamente, perché ero interessato a tantissime cose. Non ero interessato alle cose a cui era interessato lui. ero assolutamente interessato a tante cose, tante cose. Vedi, quando diciamo obiettivi, dobbiamo capire questo. Da dove ti trovi? Se fissi un obiettivo per la tua vita, puoi fissare un obiettivo solo in base al tuo attuale livello di comprensione e di conoscenza. Non è vero? Pensi di aver raggiunto un punto in cui conosci tutto nell'universo? Quindi, se fissi un obiettivo, che tipo di obiettivo fisserai? Un obiettivo molto misero. E se cresci rapidamente, sarai terribilmente deluso dal tuo stesso obiettivo. Ma, questo ti è stato insegnato negli ultimi anni, che devi essere orientato verso l'obiettivo. Se tu, diciamo che vuoi dei mangi a casa tua, se vuoi dei mangi, non devi pensare ai mangi. Devi pensare al terreno, devi pensare al concime, devi pensare all'acqua, devi pensare al sole. nessuno di loro ha l'aspetto o il sapore dei mangi. Ma se ti occupi di queste cose, i mangi arriveranno. Supponiamo che tu abbia un forte desiderio di mango, ma non hai fatto nulla per far crescere un albero di mango a casa tua. Vorrai rubarlo a lui? Se ce l'ha. Sì o no? Quindi, se hai degli obiettivi, ciò che chiami obiettivi sono solo i tuoi desideri. E i tuoi desideri sono solo un risultato del tipo di processo di pensiero che hai adesso. Il tipo di processo di pensiero che hai adesso dipende solo dal tipo di dati che hai raccolto adesso. in vent'anni di vita, che tipo di dati credi di aver raccolto per fissare un obiettivo per la vita? Non è necessario. Quindi, è una cosa di cui mi sto occupando. Recentemente, ogni anno abbiamo questo evento dedicato alle aziende nel mese di novembre. Vengono molti imprenditori. I migliori dirigenti d'azienda hanno partecipato. 200 amministratori delegati vengono ogni anno per formarsi con noi per quattro giorni. L'anno scorso uno di loro che dirige una grossa multinazionale mi chiedeva Sadhguru, scegliamo i migliori studenti dagli istituti tecnici e di management. Continuiamo a pagarli sempre di più e loro continuano a chiedere sempre di più. Ma, quando guardo la tua organizzazione, non paghi niente a nessuno di loro e sembra funzionare molto meglio della nostra multinazionale. Qual è il segreto? Ho detto, vedi, è solo questo. Siamo devoti al processo. Non ci preoccupiamo dell'obiettivo. Siamo assolutamente devoti al processo. Perché la nostra devozione è il processo di ciò che stiamo facendo adesso. Se non fai bene ciò che stai facendo ora, il tuo obiettivo rimarrà solo un desiderio fantasioso, non è vero? Ci siete? Sì o no? Il tuo obiettivo sarà solo un desiderio fantasioso che ti sei inventato nella tua mente. E non è nemmeno tuo. I tuoi obiettivi sono tutti presi in prestito da altre dieci persone. Qualunque sia la tendenza oggi è il tuo obiettivo, non è vero? Io direi ai giovani non fissate un obiettivo. Se hai una devozione assoluta verso ciò che stai facendo adesso, a seconda dei tempi e delle opportunità, andremo il più lontano possibile. Ma se sei sempre preoccupato per il traguardo e non per il passo che stai facendo in questo momento, cadrai dritto sulla faccia, molto probabilmente. se raggiungi l'obiettivo sarai deluso, se non lo raggiungi sarai distrutto. Le persone più di successo sul pianeta. Voglio che tu osservi, non fermarti a ciò che dico. Vai solo per strada e osserva la gente. Lascia stare le persone che guidano dei carri con i buoi e cose del genere. Guarda le persone che guidano BMW, Mercedes e quant'altro. Ok? Persone di successo. guardale con attenzione. Quanti di loro stanno gioiosamente guidando la loro BMW? Ci siete? Quanti di loro guidano con gioia l'auto dei sogni per cui hanno lavorato? Vedrai. Quasi nessuno. Quasi nessuno, a meno che non sia un'auto rubata. Quindi, quelli che hanno raggiunto i loro obiettivi sono delusi. Quelli che non li hanno raggiunti sono a pezzi frustrati. Che senso ha una vita così? La tua capacità di fare delle cose è potenziata solo quando sei assolutamente, assolutamente devoto al processo in cui sei coinvolto. Sto usando la parola devozione volutamente perché la gente pensa che devozione significhi andare al Tempio. Dimmi, in ogni campo, ogni ambito della vita, sport, arte, musica, politica, spiritualità, dimmi, quello che vuoi. Negli studi, qualcuno ha mai raggiunto un livello significativo di risultati senza essere devoto a ciò che sta facendo? Ci siete? Qualcuno l'ha raggiunto? Hanno fatto cose mediocre. Solo coloro che sono assolutamente devoti a ciò che stanno facendo hanno fatto cose significative su questo pianeta ed è questo che devi fare. Sadhguru, come ci hai detto, quelli che raggiungono gli obiettivi non sono così felici e quelli che non... Ho pensato di spaventarti un po'. E anche quelli che non hanno obiettivi sono infelici. Gli obiettivi sono il punto di partenza, ma molti... No, 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 permettimi di correggere. L'obiettivo è un punto di partenza o una linea di arrivo? Per favore. Che cos'è? È entrambi. Come è possibile? Come fa a essere un punto di partenza? L'obiettivo è un traguardo o un punto di partenza? Vi prego, dovete dirmelo. Tutti voi. L'obiettivo è una linea di partenza o una linea di arrivo? Che significa? Però se l'obiettivo è qualcosa che ci motiva una volta che pensiamo a un obiettivo... Adesso stai arrivando al punto. Quindi, sei stato addestrato come una scimmia da circo. Sai? Le scimmie del circo sono così. Se vuoi che facciano un numero devi dar loro un dolcetto. altrimenti non lo faccio. Un altro dolcetto non essere una scimmia da circo. Pensavo ci fossimo evoluti dall'essere scimmie molto tempo fa. Ci siete? Quindi, funzioni solo con un cosa ci guadagno, cosa ci guadagno, cosa ci guadagno, cosa diavolo ci guadagnerai? Morirai un giorno. Questo è tutto. pensi che otterrai qualcosa alla fine? No, un giorno morirai e basta. La sola questione è quanto bella, significativa, intensa è la vita che hai vissuto. È tutto qui. Cosa otterrai alla fine? L'obiettivo è il punto finale, non è vero? Cosa pensi che otterrai alla fine della tua vita? Voglio che tu visiti le case di riposo, gli ospizi, dove le persone raggiungono la fine della propria vita. guardali, cosa pensi che abbiano ottenuto? Niente, o hanno vissuto una vita profonda oppure no. È tutto qui. che abbiano ottenuto?